Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Learning Latino. Oggi vi parlo di un argomento che mi avete richiesto veramente in tanti e volevo anche cogliere l'occasione per ringraziarvi dell'interesse che state dimostrando per il mio canale e dirvi che ogni volta che mi scrivete che siete riusciti a fare bene un compito, che comunque avete capito bene un argomento e vi è piaciuta una lezione, io sono veramente contentissima, vi invito chi non l'avesse ancora fatto a iscriversi al canale, voglio inserire a breve altri contenuti molto molto interessanti e veramente se avete dubbi o incertezze non esitate a scrivermi nei commenti. detto questo cominciamo subito con i pronomi personali di prima e di seconda persona, in realtà quello che molti di voi mi hanno chiesto e che spiegherò è il pronome personale di terza persona che in latino si esprime con isse e aid, ma ci arriveremo. Allora, i pronomi personali di prima e seconda persona in latino sono molto semplici, sono questi qui che vi ho scritto, dunque al singolare il pronome di prima persona ha i seguenti casi, nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, non ce l'ha e ablativo. Ed eccoli qui, io si dice ego, quindi quando è soggetto, di me, quindi genitivo, si dice mei, a me, dativo, complemento di termine, michi, con la usnacca, accusativo, me, oppure mi, si dice me, non c'è il vocativo, e l'ablativo, quindi scriviamo da me, ma può significare altre cose, ed è me, quindi ego, mei, mi, me, me. Quello di seconda persona, tu, si dice tu, come in italiano, ed è soggetto, è nominativo. Tui vuol dire di te, tibi, a te, dativo, te, appunto l'accusativo in latino si dice te e ti, vocativo non c'è, ablativo te, da te. Andiamo a vedere invece, questo per quanto riguarda il singolare, andiamo a vedere invece il plurale. Allora, prima persona, nominativo, nos, vuol dire noi, nostri, vuol dire di noi, ma si può dire anche nostrum, poi dopo ne nota bene, vi dico la differenza tra nostri e nostrum. Dativo, nobis, quindi a noi, oppure ci, poi andremo a vedere anche questo. Accusativo nos, noi, vocativo non c'è, nobis, da noi. Seconda persona, sempre plurale, boss, voi. Vestri, genitivo, oppure vestrum, funziona come per la prima persona, anche la seconda, di voi, e anche di questo poi vi dirò la differenza. Bobbis, a voi, oppure vi. Boss, accusativo, voi, oppure vi. Niente vocativo, bobbis, da voi. Come sapete, come saprà benissimo chi segue le mie lezioni da un po', io vi faccio sempre i nota bene. Allora, qui ce ne sono un po', ma sono molto molto semplici, li leggiamo insieme e li analizziamo. Io vi consiglio sempre, sempre, sempre di prendere appunti. Allora, il primo punto da considerare è questo. Quando c'è il complemento di compagnia, quindi qual è? Quello che risponde alla domanda con chi? O di unione con che cosa? Il pronome personale si mette davanti al cum, nel caso ablativo, e si fonde con esso. Allora, è più facile di quello che sembra. In versione, tante volte sono certa, vi sarà capitato di leggere me cum. Allora, il pronome, vedete, nel caso ablativo, si mette davanti a cum, non è cum me, ma è me cum, quindi si mette davanti e si appiccica. E si traduce con me. Te cum, sarebbe cum te, non si può fare, ed è con te. Nobis cum, a volte, sarebbe cum nobis, ed è con noi. Bobis cum, cum bobis, con voi. Allora, e questo è un caso. Poi abbiamo un altro punto che vi ho segnalato. I pronomi personali valgono sia per il maschile che per il femminile e il neutro. Cioè, non cambiano. Se io dico io, sia che sono femmina o maschio, è sempre ego. Ok? Poi, ecco, questo è quello che vi accennavo prima. Nostrum e bestrum hanno valore partitivo. Vi ricordate che già avevo detto che si poteva dire, nel genitivo di prima persona, si poteva dire o nostri o nostrum. e nel genitivo di seconda persona, o besti o bestrum, quindi di noi e di voi. In questo caso, nostrum e bestrum si usano quando c'è il valore partitivo, cioè uno di noi, uno di voi. Quindi ecco la differenza. Poi, i pronomi di prima e seconda persona possono assumere il valore di pronomi riflessivi. Quindi, attenzione qui, in tutti i casi, ovviamente, tranne che in nominativo, se si riferiscono al soggetto della frase di cui fanno parte, che vuol dire questo. Per esempio, ego me laudo, io mi lodo mi, è un riflessivo. E infatti qui assume valore di pronome riflessivo, in accusativo. Sarebbe io lodo me stesso, e me stesso in quel caso io lodo, io soggetto, lodo chi? Di me stesso, quindi sarebbe, appunto, accusativo. E adesso veniamo all'argomento che mi avete chiesto in tanti, cioè il pronome personale di terza persona. Allora, il pronome personale di terza persona, in latino, non ha una forma propria. Infatti vedrete che è diverso. Non ha una forma propria. E al suo posto si usa il pronome determinativo, cioè che sarebbe pronome dimostrativo. Is, ea, id. Farò una lezione anche sui pronomi dimostrativi. A brevissimo. Allora, si usa questo is, ea, id. E qui viene un po', tra virgolette, la difficoltà, ma non è una... È una difficoltà che si supera molto facilmente. Io qui ve l'ho riportato, vi suggerisco di scrivervelo. Allora, lo leggiamo insieme e lo analizziamo. Qui, ai casi, esattamente come gli altri, è maschile, femminile e neutro. Ed è così. Questo va solo, ragazzi, memorizzato. Quando ve lo chiedono, per esempio, all'interrogazione, ve lo dovete dire così. Is, ea, id. Eius, eius, eius. Quindi non va così ripetuto, ma va in questo modo, in orizzontale. Allora, is vuol dire egli, ma se invece è una ragazza, una donna, si userà ella, che si dice ea. Quindi questo qui, ragazzi, cambia per il maschile, il femminile e il neutro, a differenza dei pronomi di prima e seconda persona. Id vuol dire esso, è il neutro. Eius di lui, eius, eius, questo resta uguale. Eiu, eius, 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 quindi a lui, a lei, a esso, neutro. Eum, eam, ea, quindi lui, lei, esso. Eio, ea, eio. Con lui, va bene, poi anche altre traduzioni. Con lei, con esso. Plurale, maschile, femminile, neutro. Qui, attenzione, si può dire in due modi. EI o I si può dire veramente in tutti e due modi l'unica, io l'ho trovato più spesso così in I, perché qual è il problema? che EI si potrebbe confondere con il dativo singolare, in latino ci sono tante tante cose che si confondono quindi non sarebbe assolutamente una novità quindi EI o I questo qui E EA perché questo si legge A E si legge E quindi E, EA sarebbe ESSI, ESSE, ESSI EORUM, EARUM, EORUM quindi di loro, di loro, di loro EIS, EIS, EIS oppure IS, IS, IS io ho trovato nell'80% dei casi, delle versioni IS, quindi a loro a loro, a loro, tutti uguali poi EOS EAS, EA quindi loro, loro e loro accusativo e di nuovo identico spesso il dativo e l'abblativo si assomigliano, sono uguali EIS o IS EIS o IS EIS o IS che vuol dire con loro, con loro, con loro adesso andiamo a vedere anche di questo pronome e nota bene e qui c'è una cosa importante che poi ovviamente approfondiremo su un'altra lezione però qui ve la voglio accennare quando il nome della terza persona scusate quando il pronome di terza persona ha valore riflessivo l'abbiamo visto anche per quello di prima e di seconda quando hanno valore riflessivo come facciamo ma qui quando ha valore riflessivo cioè si riferisce al soggetto della frase in cui si trova si usa al posto di IS EID un'altra cosa che poi vedremo bene lo studieremo dopo voi sappiate solo che se è riflessivo quindi se si riferisce al soggetto della frase in cui è inserito dopo vi faccio l'esempio così lo capite proprio in pratica si usa questo se io devo dire di sé diciamo di lui ma inteso come di sé del soggetto utilizzerò SUI a sé quindi il dativo utilizzerò SIBI e non userò il dativo dell'altro ok quindi non userò EI ma userò SIBI SE SE stesso accusativo SE SE da SE allora di tutti questi qui che io vi ho detto hanno quello che interessa l'unico che interessa in realtà è questo qui questa volta SE l'accusativo l'accusativo allora qui vi ho scritto diciamo un appunto questo è un argomento che vedremo in seguito per ora ci interessa solo l'accusativo SE che vale indistintamente per tutti i generi e i numeri e che traduce tradurremo SE loro oppure SI questi altri anche si usano ragazzi ma in altri contesti che poi analizzeremo bene qui vi ho riportato un rapido esempio così capiamo bene la differenza di quando si usa questo e quando invece si usa l'altro pronome di terza persona allora guardate queste due frasi Paulus SE DEFENDIT SE eccolo abbiamo usato questo invece in quest'altra frase Paulus EUM DEFENDIT allora qual è la differenza questi sono tutti e due in teoria pronomi di terza ma in questo caso c'è un pronome riflessivo perché perché Paolo difende SE stesso Paolo si difende invece qui Paolo difende chi questo qui EUM è l'accusativo singolare e si traduce come LUI ma inteso come LUI diverso dal soggetto ok un altro LUI quindi se io trovo Paolo difende EUM io capisco che Paolo difende chi? LUI Paolo DEFENDIT SE oppure Paolo SE DEFENDIT Paolo SI difende quindi difende se non volessi usare SI potrei dire Paolo difende SE stesso DIFENDIT